Ci sono le piante, questa scusate eh, una, due, erano così, qua c'è mio padre nascosto, la mamma anche, come sempre, che a casa mia abbiamo apporto di mettere piante, c'è un bosco, come sapete, però sono nove, sono nove abeti, vi aspetto su a vederli, ma alti eh, sono più, ah no però, venti metri sono, eh, grazie ancora Isabella, eh, parole emozionanti che toccano e ricordano i bei tempi quando Alberto con le sue gesta portava via audience a questo calcio, che tutti, però giocate e fate sport, anche se non è il calcio, è lo stesso, che qui vicino ci sono gli impianti sportivi, se qualcuno un po' triste un giorno viene qua, tocca il mio monumento, la sua scultura e si carica, porto un po' di cavalli.